Una serata con due grandi del calcio italiano. A Expo Brianza abbiamo incontrato Pierino Prati, ex milanista, e Sandro Mazzola, ex interista, che hanno parlato dello sport all'interno della nostra società. Un messaggio per i ragazzi che si avvicinano allo sport? Ah, di farlo per divertirsi, cioè soprattutto quelli più piccoli, iniziate perché è un gioco, e il gioco è divertimento, devono divertirsi il più possibile, e chi li ha in mano deve cercare di farli divertire e di non tappare gli ideali, di lasciare la loro creatività, perché è giusto così a questa età. All'età piccola i ragazzi hanno modo di divertirsi, perché in questo mondo dove c'è pieno di tante cose brutte, lo sport è ancora un'isola bellissima. Secondo me l'insegnamento che ci dà lo sport è questo, in altri settori della vita non è sempre così, ma nello sport, chi ha la costanza, chi ha la voglia di allenarsi, chi ha la voglia di applicarsi, i ragazzi che invece di andare in giro alla domenica pomeriggio, al sabato pomeriggio, vanno su un campo da calcio, su un campo da atletica, in una palestra, beh, capiscono poi, quando saranno più grandi, quanto bene gli ha fatto tutto questo. Nel corso della serata sono state premiate le squadre vincitrici del torneo intercomunale promosso da Expo Brianza. Prima classificata, la Villaggio Fiori Antonini di Limbiate, seguita dal Molinello di Cesano Maderno e dalla Nuova Samo di Limbiate. Grazie. Grazie.